questo piacerebbe molto alla comunità è lgbtq plus pensavo la stessa comunità io l'abbonamento alle gtbq plus quanto paghi a me? ma secondo me è un'inculata ma puoi dividerlo con gli altri dico sì ma alla ferrari le domande le formula 1 non so se ci avete mai fatto caso il verso del gatto maschio differisce da quello della gatta femmina per pochissime vocali tipo per esempio il verso del gatto qual è? miau miau e il verso della gatta della gattina lo sapete? sono la tua gattina fammi tua miau cambia di pochissimo alla fine sembra avuto i gatti maschi incredibile c'è un documentario su lgbtq plus a che ora? ma quando due latini si incontrano formano un angolino due latini due atomi che si incontrano e si dicono uè fratomo? come la cellula che va dal parrucchiere gli dice mitosi e il parrucchiere fa meglio si se è possibile questa è questa è didattica Roberto ho un'altra domanda cioè noi abbiamo inventato gli ultrasuoni per vedere i bambini dentro la pancia per vedere i raggi x per vedere le ossa la risonanza magnetica per vedere il cervello però a vedere la prostata ci infilano i te in **** ma perchè? perchè è piacevole ma tu lo fai periodicamente a prescindere da tu? indipendentemente dalla prostata io non sapevo che fosse una visita anche questa è didattica come è perché chi ci sta ascoltando sappia che se vi capita è una visita io ho un mio amico cavallo chi non ce l'ha? che ha una passione per i videogiochi però sta sempre nervoso perchè sta al computer gli compare installa e se ne va poi fa utilizzare un computer e un cavallo è impossibile è una cazzata questa no 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 lui va spesso su internet come me l'hanno io non sopporto una categoria di persone poi sono quelli che iniziano le frasi e poi non li sopporto e poi non sopporto quelli che non si capisce quando parlano perchè ci ho fatto una risposta da affari questa è la cosa numero due infastigiosissima infastigiosissima quelli che non capisci quando parlo che iniziano la partita e risposto che è una cosa che stai è una cosa veramente indescrivibile poi non sopporti quelli che fanno le battute e poi fanno così l'hai capita non capisco quelli ripetitivi non capisco quelli ripetitivi non capisco quelli ripetitivi l'hai capita si si Milano sta sempre diventando più pericolosa consiglio da mettere nella borsetta questo che è uno spray al peperoncino semplicissimo te lo metti in borsa e tranquillamente vivi la tua vita ai calabri si piace è piccante è uno spray al peperoncino di quel è molto buono ma non ti fa male così tanto no a me piace se il momento non va alla montagna evidentemente ci aveva da fare ride bene chi? è andato dal dentista ha pagato 4.000 euro di ma che c***o il dentista conosce? 4.000 euro per cosa? ma non è quello lo stesso tuo so che sono i dentici quindi qual è la molare di questa storia? la ragione si dà ma anche una picca il buongiorno si vede su whatsapp chi tardi arrivi e dai il buongiorno si su whatsapp fa molte idee io devo andarmene a cavallo donato con mollico senza quale era quell'altra di prima che mi piaceva? a cavallo donato e poi puoi venire il cavallo donato va dura e ti metto pure tra moglie e marito vedi che ti viene fuori tra moglie e marito e non mettere il cavallo donato? oh ma tu non c'hai quei parenti che c'avevano un maneggio? perché ti hanno donato un cavallo? sai cosa ho fatto? cosa ho fatto? ho guardato in bocca non si fa ce l'ho a pecorelle? ce l'hai a pecorelle? hai letto male ce l'ho a pecorelle? è davvero cosa sta succedendo? cosa sta succedendo? ce l'ho a pecorelle? no ah no e come devo leggerla? ce l'ho a pecorelle? no no hai pensato che dicesse un'altra volta e tipo guarda Milano che ce l'ho sporco guarda Milano che ce l'ho aperto comunque io ci tengo tanto sui mobili di casa voglio quelli di marca infatti c'ho due Giorgio Armadi sono molto bravo che poltrone si fa? questa battuta non è tua è divano è divano sono due è di divano divano e divano sono due sono cuscini il leone si fa Roar quel bello onomatopea del leone la leonessa dai no no ci potete arrivare con la logica anche questa riferisce per pochissimo i vocali il leone fa Roar la leonessa sono proprio una leonessa io combatterò contro tutto Roar ma pure il topo e la topa il topo squit 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 la topa è diversissimo il cane bau il cane di paperissima uoi uoi un bambino entra nella stanza dei genitori e c'è il padre che sta facendo sesso con una donna che non è sua moglie e il bambino che ero io faccio papà ma perché stai rovinando una famiglia per questa cosa perché stai tradendo la mamma questa è la zia basta papà non so esattamente che numero state pensando io faccio uno dei tre con le dita altre lo dico in contemporanea a voi perché io vi leggo nella mente vai sette otto eeeh vabbè cinque ragazzi non siamo messi d'accordo possiamo dire va barbiere i capelli li vuole indietro no no se li tenga pure i capelli li vuole tagliati tanto fai come dici tu eh cioè che cosa me lo ti da fare intanto sono sempre come dici tu ho fatto il risotto alla milanese e gli è piaciuto molto simpatica però robot che vola e distribuisce magliette di bel napoli maradrone uoh è arrivato un maradrone infatti quando arriva fanno non ti preoccupare uoh c'è sto maradrone c'è sto maradrone c'è sto maradrone